Rapina questa mattina al banco BPM di via Serra di Falco a Palermo. Poco dopo l'orario di apertura, cinque uomini sono entrati nell'istituto bancario e hanno preso in ostaggio la dirigente, alcuni dipendenti e i clienti. I rapinatori hanno svuotato le cassette di sicurezza e pare abbiano aperto anche il cavò. I banditi per entrare avrebbero forzato un cancello che porta i box e all'autoclave condominiale, hanno fatto un buco sul tetto e sono entrati nell'ufficio dell'archivio per cogliere tutti di sorpresa. Indagini da parte dei carabinieri che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della banca ma anche delle telecamere in zona. Sono stati sentiti la direttrice, i dipendenti e i clienti che sono stati presi in ostaggio dai rapinatori.